Gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo sul Cyber Resilience Act, il progetto di regolamento sulla cyber resilienza che introduce requisiti obbligatori comuni in materia di cybersicurezza per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti hardware e software, cioè tutti i prodotti connessi alla rete o ad altri oggetti come telecamere per uso domestico, smart objects e giocattoli. L'accordo che porta avanti l'impegno dell'UE a favore di un mercato unico digitale sicuro e protetto consentirà alla presidenza spagnola di avviare i negoziati con il Parlamento europeo sulla versione definitiva della normativa proposta. Nel 2022 a quasi 8 italiani su 10 è capitato di imbattersi almeno in una minaccia informatica tra sms o messaggi su whatsapp con link sospetti ed email ingannevoli. È quanto emerge dal rapporto Censys-ISFA che sottolinea come l'ampliamento dei cyber risk e l'aumento degli attacchi informatici influenzino ormai le condotte di vita degli italiani e come sia opportuno promuovere una maggiore consapevolezza collettiva sul tema della cyber security. Secondo lo studio inoltre nel 2022 gli attacchi informatici e infrastrutture sono balzati del 138% e in quasi 10 anni i reati informatici denunciati sono raddoppiati. Sono Milano e Roma a guidare la classifica delle prime 10 province per numero di crimini informatici. A Torino il primato di reati in rapporto alla popolazione è di 7,8 ogni 1.000 abitanti. Più di 800 imprese, 13.700 addetti, oltre 13 miliardi di fatturato stimati nel 2022 è un mercato che registra una crescita su diverse variabili. È quanto emerge dal report Eneasso Biotech sulla settore delle biotecnologie in Italia. Il comparto secondo lo studio ha vissuto una forte crescita del fatturato nel 2021 e si attende un consolidamento per il 2022. A trainare sono le biotecnologie per la salute con il 74% del totale ma negli ultimi due anni sono soprattutto le applicazioni per la bioeconomia, industria e agricoltura a riprendere l'espansione con tassi di crescita superiori al 30% giungendo a rappresentare oltre un quarto del fatturato biotech italiano. Radio e casse bluetooth portatili sono alla top nelle tendenze degli acquisti high tech per l'estate 2023. Secondo un'indagine del portale di comparazione dei prezzi Idealo, le ricerche negli e-commerce sono aumentate del 45% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Tra le tendenze un grande ritorno è quello delle console portatili con un più 27% di ricerche rispetto alla scorsa estate. Aumenta anche la voglia di Powerbank, più 22%, di e-book reader più 23% e di smartwatch più 11%. Giù invece le fotocamere, meno 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.